Buongiorno ragazzi, oggi ci stiamo rilassando, siamo sul nostro balcone che prendiamo il sole, ma una domanda Ma lo sapete che Bella Ciao non è l'inno d'Italia, non è l'inno di... cioè, no, giusto per capire, ma per carità è Orecchiabile, no? Al fatto suo, no? Questa canzoncina, però Giusto per capire Va bene Quindi avete scoperto che non è soltanto la colonna sonora della serie tv La Casa di Carta Già questo è un traguardo molto importante Perché ho scoperto dei bravi cantanti, però mi è andato un po' di traverso quello che ho mangiato Ora vi saluto, vi saluta anche il mio amico che è uscito qui Torniamo a prenderci il sole, anche se è diventato un po' timido Forse si è spaventato dopo il coro che c'è stato Speriamo ritorni, dai Buon sabato